Qual è la terapia standard per il lupus? Quando dobbiamo iniziare il trattamento in un paziente dobbiamo considerare tutta una serie di variabili, ad esempio il fenotipo clinico della malattia oppure l'attività di malattia. Questi sono sicuramente i principali anche se non le uniche variabili da considerare. Per quanto riguarda il fenotipo clinico diciamo che possiamo distinguere fondamentalmente due forme di lupus, una forma lieve e una forma grave. La forma lieve è quella caratterizzata dalle manifestazioni articolari, quindi dall'artrite, dalla dermatite, dalle sierositi, pleurite o pericardite e dalle manifestazioni ematologiche lievi. In questo caso il trattamento di prima scelta è quello che si basa sull'uso della cortisone. In genere si inizia con una dose media all'incirca 0,5 mg kg al giorno e poi la dose viene progressivamente ridotta. Al cortisone si associa sempre l'antimalarico di sintesi, quindi l'idrossiclorochina o la clorochina e in caso di necessità per controllare la febbre o i dolori articolari possono essere utili anche gli antinfiammatori non steroidei. Il fenotipo grave di malattia invece è quello caratterizzato dalla presenza della glomerulonefrite o dalla presenza di un interessamento del sistema nervoso centrale. Ci sono poi delle manifestazioni più rare che caratterizzano questo fenotipo come ad esempio la vasculite viscerale o le varie forme di polmoniti, polmoniti intestiziali, di miocardite, quindi di impegno cardiaco di tipo parenchimale. Ma si tratta di manifestazioni sicuramente meno frequenti, quindi tra queste la più frequente è sicuramente l'agglomerulonefrite seguita dall'impegno del sistema nervoso centrale. In questo caso, oltre al trattamento che abbiamo nominato prima, che si impiega quindi nelle forme lievi e iniziali, si associa sempre un immunosoppressore. Immunosoppressori ce ne sono di diversi tipi, abbiamo la ciclofosfamide che è uno di quelli usati da più tempo, che più che un immunosoppressore potremmo definire un farmaco citotossico, in quanto ha un effetto non specifico sulle cellule del sistema immunitario, ma un effetto tossico un po' su tutte le cellule dell'organismo. Altri immunosoppressori in uso sono il micofenolato omofetile, il metotrexate, la zatioprina, la ciclosporina A, il tacrolimus. Questi sono sicuramente i principali. Diciamo che tra questi, al giorno d'oggi, quello che viene usato più frequentemente, in particolare nella glomerulonefrite, è il micofenolato omofetile, perché si è visto che questo farmaco ha un'efficacia pari a quella della ciclofosfamide, ma ha meno effetti collaterali, è sicuramente meglio tollerato. Oltre ai farmaci che ho nominato, esistono dei farmaci che vengono impiegati in caso di manifestazioni refrattarie, e tra questi voglio nominare ad esempio la talidomide, che viene utilizzata nei pazienti con manifestazioni cutanee refrattarie. Si tratta di un farmaco che è stato introdotto in terapia negli anni 60 e che poi è stato ritirato dal commercio perché induceva malformazioni fetali. Bene, viene utilizzato ancora in qualche condizione clinica, come ad esempio nella lebra lepromatosa, nel mieloma multiplo e anche nelle forme cutanee resistenti di lupus. Un'altra terapia chiamata sempre terapia rescue è quella con le immunoglobuline endovena, utilizzate ad alte dosi, oppure anche la terapia con la plasmaferesi, che ovviamente si riserva a situazioni cliniche particolarmente gravi. Un piccolo cenno, prima di concludere l'elenco dei farmaci, va fatto anche all'impiego della vitamina D. La vitamina D viene impiegata nella maggioranza dei casi per il trattamento dell'osteoporosi, in quanto è una vitamina che facilita l'assorbimento del calcio a livello intestinale, però recentemente si è visto che questa vitamina ha anche degli effetti immunomodulanti e si è anche visto che nei pazienti che hanno malattie reumatiche autoimmuni o malattie autoimmuni in generale, i livelli di vitamina D sono molto bassi. E questo è particolarmente vero nel caso dei pazienti effetti da lupus eritematoso sistemico, che proprio per la possibilità di sviluppare manifestazioni cutanee, a questi pazienti noi consigliamo di non andare al sole e quindi questi pazienti hanno livelli particolarmente bassi di questa vitamina. Ecco che al giorno d'oggi si tende a somministrare la vitamina D a tutti i pazienti affetti da lupus e il dosaggio che utilizziamo nella pratica clinica di circa 2000 unità internazionali al giorno, quindi un dosaggio un po' più alto rispetto a quello che si usa nel trattamento dell'osteoporosi. La domanda che dobbiamo porci è ma questa terapia che abbiamo detto essere considerata una terapia standard è efficace nel trattare i pazienti affetti da lupus? Ebbene la risposta è sicuramente sì, infatti la prognosi dei pazienti con il lupus è decisamente migliorata in questi ultimi decenni. Se noi ad esempio confrontiamo le curve di sopravvivenza e quindi la prognosi registrata 30-40 anni fa con quella ottenuta ai giorni nostri, vediamo che in particolare la prognosi a breve e medio termine è sicuramente migliorata. Quello che rimane ancora non completamente soddisfacente è la prognosi a lungo termine e questo perché con il passare del tempo probabilmente emergono quelle che sono le complicanze della malattia oppure le complicanze della terapia. Tra queste complicanze ci sono soprattutto le infezioni e le malattie cardiovascolari. Infatti si è visto che nei pazienti affetti da lupus esiste una terosclerosi accelerata. Quindi nonostante la prognosi della malattia sia molto migliorata ci sono ancora dei bisogni insoddisfatti e che quindi potranno essere soddisfatti con l'impiego e l'introduzione di nuovi farmaci che siano altrettanto o più efficaci rispetto a quelli tradizionali ma abbiano meno effetti collaterali.